Inaugurata oggi alla Fiera di Ferrara, Remtec Expo, la manifestazione dedicata all'ambiente che storicamente si tiene in questa città. Quest'anno però abbiamo l'inaugurazione all'interno dello stand dell'SNPA. L'SNPA che per la prima volta si presenta come interlocutore unico per tutti coloro che vogliono saperne di più rispetto alle attività di agenzie e di ISPRA. Il 20 settembre poi le imprese presenti a Remtec si riuniranno insieme agli esperti SNPA in quattro tavoli tematici, sempre all'interno dello stand SNPA, per discutere di attività comuni. La mattina del 20 settembre insieme alle autorità locali e ad altri esperti del sistema un convegno e un dibattito si presenteranno al pubblico di tutta la fiera. Grazie!